Oroscopo Paolo Fox e Branco di oggi, lo Zodiaco completo. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, lavoro e fortuna per ogni segno zodiacale. Ariete. I sentimenti e gli affetti avranno un posto più importante in questo giorno, e fortunatamente questo sarà per il meglio. Troverai eventi piacevoli o notizie relative alla tua vita sentimentale o familiare, o entrambe. Alcuni conflitti o tensioni potrebbero essere risolti. Il tuo partner o i tuoi figli ti porteranno sorprese molto piacevoli. Ti senti pronto a fare qualcosa che non ti si addice e che potrebbe prendere in contropiede una persona vicina. Sfortunatamente la tua cerchia potrebbe essere destabilizzata dal tuo modo di fare bizzarro, come se tu fossi un'altra persona. Alcuni ti troveranno addirittura immaturo o irresponsabile. Toro. Ti aspetta una giornata felicissima se fai un po' la tua parte, e riuscirai finalmente a realizzare un sogno o una grande illusione legata all'amore, o almeno sentirai che il destino ti avvicina sempre di più alla tua sogni. Tempo ideale per prendere l'iniziativa e anche correre qualche rischio in campo sentimentale. Oggi sfoggerai quella parte di te estremamente sedutrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle. Gemelli. Oggi la tua grande intelligenza e furbizia ti porterà a scoprire una bugia, una truffa o un tradimento. Grazie a ciò, puoi impedire che accada o interrompere la situazione, se si verifica. In fondo ti porta fortuna perché ti permetterà di allontanare dalla tua vita una persona falsa e in fida di cui sei arrivato a fidarti quasi ciecamente. Anche se stai pensando di prenderti delle ferie, la mancanza di tempo o di soldi potrebbe farti lasciar perdere. Non succombere alla frustrazione e concentrati piuttosto sulla ricerca di soluzioni alternative. Ciò di cui hai bisogno è soprattutto staccare, non ti serve nessun lusso né bene materiale. Cancro. Ti aspetta un giorno di gioia, pace e felicità, almeno il destino ti renderà facile viverlo in questo modo? A poco a poco le cose stanno cambiando in meglio e la vita ti sta regalando uno scenario sempre più piacevole per te, ed è questa la sensazione che avrai non solo in questo giorno ma durante le prossime settimane. La malinconia che senti da qualche giorno ti mette di fronte a numerose domande, alcune più urgenti di altre. Questo mette in secondo piano gli obiettivi a lungo termine a favore dei risultati immediati. Il problema è che quello su cui stai lavorando è importante, e richiede molto tempo e pazienza. Leone. Oggi ti concentrerai soprattutto sul lavoro e avrai in testa, con più intensità del normale, questioni di denaro e materiali in genere, forse sei preoccupato per le tue finanze o ti stai preparando a fare un grosso investimento o una spesa importante in la tua vita privata. Ma in generale la giornata andrà bene per te. Rallentare un po' non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente. Virgine. I benefici influssi della luna e di venere vi aiuteranno a godervi una giornata che all'inizio sarà un po' tesa o con molto stress e nervosismo, ma alla fine sarà una giornata piacevole in cui potrete rilassarvi, soprattutto perché sarà in grado di portare a termine con successo tutto il lavoro che devi fare. Ti hanno preso in giro per tutta la mattinata. Sei attratto dalla possibilità di avviare un nuovo progetto al lavoro o a casa. Allo stesso tempo, sei deciso a non lasciarti distrarre da un impegno a lungo termine. Questi due flussi energetici opposti tendono a renderti nervoso. La tua bilancia degli obiettivi a breve termine e dei desideri più remoti è piuttosto instabile. Bilancia. Devi sviluppare una missione molto difficile direttamente o indirettamente correlata al tuo lavoro, dovrai affrontare una situazione in condizioni molto avverse e usare le tue migliori capacità e diplomazia per questo. Passerai un brutto o brutto momento, ma alla fine ce la farai e ne sarà valsa la pena. Potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un'impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta. Scorpione. Ha torto o hai ragione, oggi ti ritirerai in te stesso più del normale, sia a causa di stress segreto e preoccupazioni lavorative, o forse anche di grande tristezza o malinconia motivata da avversità nella tua vita intima, che farai sforzati di nasconderti dagli occhi esterni. Tutto passerà. La giornata sarà l'insegna del tuo corpo e del tuo aspetto, che sia in ambito sportivo, della salute o più personale. Senti inoltre il bisogno di condividere le tue emozioni e dire tutto quello che ti passa per la testa. Insomma, sei dell'umore giusto, cosa che trasmette energia positiva alle persone che ti circondano. Sagittario. Non lasciare che l'impazienza ti rovini oggi. Anche se le cose vengono ritardate o compaiono problemi imprevisti, ciò non significa che alla fine non funzioneranno o che andranno male. Oggi ti sentirai più veemente o arrabbiato del solito e potresti fare cose di cui alla fine ti pentirai sicuramente. Devi calmarti. In questo momento avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra-terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale. Fai quello che ti piace. Capricorno. È tempo di superare tutte le paure, le ansie e le insicurezze che nascondi agli occhi dell'esterno e uscire a combattere con grande fede e fiducia. Oggi avrai alcuni pianeti importanti che ti invieranno le loro migliori influenze e i tuoi sforzi non falliranno, è tempo di correre dei rischi e chiedere ciò che meriti. C'è aria di cambiamento intorno a te, e anche se da diversi giorni stai opponendo resistenza, oggi ti senti pronto. Non succederà in un'ora, ma puoi sapere fin da ora dove indirizzare le tensioni e come calmarle. Ricomponi tutti gli scenari nella tua testa e assicurati di prevedere tutte le conseguenze delle tue scelte. Acquario. Ti aspetta una giornata molto attiva e competitiva, ma allo stesso tempo piacevole e proficua per te, perché non sarà il destino a mettere problemi o stimoli nel tuo casino, ma sarai tu stesso a cercarli. Una giornata che si concluderà con traguardi e frutti che non saranno dovuti alla fortuna ma a voi. Potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po' in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze. Pesci. Lavori molto duramente per promuovere la felicità dei tuoi amici, dei tuoi cari e praticamente di tutti intorno a te, tuttavia, hai pochissimi momenti in cui tu stesso puoi goderti quella felicità che meriti e per la quale combatti così duramente, ma oggi sta andando essere uno di quei giorni. A volte i sogni diventano realtà. Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c'è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.